Agosto, tempo di vacanze ma anche di furti. In molti infatti partono per passare le ferie al mare o in montagna, lasciando libere le proprie abitazioni che diventano così preda dei ladri. Ma allerta massima, anche per chi non parte e rimane a casa, se i ladri evitano i condomini con luci accese, i truffatori si dirigono proprio dove c'è qualcuno pronto ad aprire la porta. Per questo il comune di Monte Urano ha organizzato una lezione di prevenzione furti e truffe in piazza insieme alla locale stazione dei Carabinieri, un incontro per sensibilizzare i cittadini con consigli pratici e casi tipo. Un'attività che per noi è centrale a tutela della cittadinanza per dare quelli che sono gli espedienti base per tutelarsi e soprattutto vogliamo fare rete, rete tra i cittadini che devono fornire le informazioni anche le più semplici e noi dobbiamo mettere le istituzioni a disposizione della cittadinanza. A Monte Urano la situazione sotto controllo tranquillizza il sindaco ma non bisogna abbassare la guardia. A breve saranno installate altre 15 telecamere nel comune Fermano. Nel frattempo occhi vigili da parte dei cittadini. Ci sta sempre da stare sopra e stare attenti a queste cose, tutti quanti uniti. È importante avere un contatto diretto con chi gestisce queste emergenze, queste situazioni e dà anche un senso di fiducia. È sempre meglio averne di più, per stare sempre più all'alerta noi anziani.